Nel commercio e nel turismo da molti anni ormai ci sono due fondi integrativi per i lavoratori dipendenti che garantiscono una serie di prestazioni. E' capitato più di una volta che i nostri imprenditori dicessero perché non abbiamo anche noi una copertura del genere. Adesso abbiamo anche noi una copertura del genere. E' su base volontaria e con 44 centesimi al giorno è un obiettivo raggiungibile. Si chiama Sani Insieme, è il nuovo piano sanitario integrativo di RBM Assicurazione Salute al quale potranno aderire da oggi ben 10.000 imprenditori di Confcommercio a Venezia. Un servizio su misura rivolto proprio al mondo dell'impresa perché sanità vuol dire sicurezza e tutela sul lavoro. Possono su base volontaria con una cifra di 162 euro all'anno affrontare questo problema. Tra l'altro spendendo un quinto di quello che sarebbero costretti a spendere se volessero affrontare questi problemi da soli. Il piano è quindi costruito con l'idea di favorire la tutela della salute consentendo quindi all'imprenditore di poter svolgere anche in caso di malattia in modo ottimale gli accertamenti in tempi rapidi che non creino disagio anche per la prosecuzione della propria attività imprenditoriale. Per fare questo abbiamo stretto un'alleanza solida con le migliori imprese che operano nel territorio nel campo della sanità e soprattutto ovviamente con il servizio sanitario regionale. La risposta ad una richiesta di attenzione da parte del mondo delle imprese, un piano specifico con una validità anche all'estero pensata per viaggi di lavoro o di piacere e che può essere estesa a tutto il nucleo familiare. Lo scopo dell'iniziativa San Insieme è proprio mettere a disposizione queste nuove cure che vanno ad affiancarsi alla tutela tradizionale offerta sul territorio dal servizio sanitario nazionale e hanno l'obiettivo appunto di rispondere a nuove esigenze che la popolazione in particolare chi lavora avverte in modo sempre più evidente. Dalla sanità regionale agli studi specializzati, la capillarità in tutto il territorio grazie anche alle strutture del centro di medicina è un altro elemento di forza di questa assicurazione integrativa, un modo nuovo di vivere, sani insieme.